Le 5 caratteristiche del segno del toro. Se sei nato tra il 20 aprile e il 20 maggio, il tuo segno zodiacale è il toro. Ecco 5 caratteristiche che potresti riconoscere in te stesso o in altre persone appartenenti a questo segno. Determinati. I nativi del toro sono molto determinati e non si lasciano facilmente scoraggiare. Una volta che hanno deciso di fare qualcosa, non si danno per vinti finché non l'hanno portato a termine. Stabili. Gli individui del toro sono molto stabili e affidabili e si sforzano di mantenere l'equilibrio nella loro vita. Non amano i cambiamenti eccessivi e cercano sempre di mantenere le cose in ordine. Generosi. I nativi del toro sono molto generosi e non esitano a condividere ciò che hanno con gli altri. Amano fare regali e sono sempre pronti a fare del loro meglio per aiutare gli altri. Possessivi. I toro sono anche conosciuti per essere un po' possessivi e protettivi nei confronti delle cose e delle persone che amano. Non amano condividere troppo e a volte possono essere un po' gelosi. Testardi. Gli individui del toro sono anche conosciuti per essere un po' testardi e per avere le loro idee ben radicate. Una volta che hanno deciso qualcosa, può essere difficile farli cambiare idea. Le persone nate sotto questo segno sono generalmente considerate determinate, affidabili e pratiche. Ma possono anche essere testarde e possessive. Il toro è governato da venere. Simbolo dell'amore e della bellezza. E questo influenza le caratteristiche del segno. Se riconosci queste caratteristiche in te stesso o in qualcuno che conosci, potrebbe essere che apparteniate al segno del toro. Impara a conoscere meglio il tuo lato determinato e stabile e sfruttalo al meglio per raggiungere i tuoi obiettivi.